Una notte, in un'atmosfera simile a quella che avvolge questa sequenza di splendor di Ettore Scola, Massimo mi prese sotto braccio e cominciò a parlarmi del film che aveva visto quella sera, il mio primo film. Eravamo al festival di Montpellier in Francia ed ebbe un sussulto, Massimo Troisi era un attore amatissimo e non solo da noi napoletani. Ma per me non era solo un grande attore, un grande comico, era un regista di speciale grandezza, i cui film costituivano a mio avviso un unico discorso cinematografico. Un cinema che si esprimeva per frammenti, per soprassalti improvvisi, alternava pieni e vuoti, ora era acceso, ora era stanco. Il cinema di Troisi per me era bello perché aveva la forma della vita. Sì.